Musica Sono Rebecca Tarlazzi, ho 18 anni, vengo da Bologna e sono qua per i Roller Games a 9Gin per partecipare assieme a Luca nella nostra specialità di coppia artistico che facciamo assieme dal 2014. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, vengo da Roma, siamo qui per difendere il nostro titolo. Ho iniziato a pattinare tramite i miei genitori, essendo allenatori sono nata con i pattini già ai piedi. Io ho iniziato a pattinare a 4 anni, ho iniziato per gioco, poi andando avanti con gli anni è diventata la mia passione e adesso è diventata la mia vita. Abbiamo iniziato a fare coppia insieme nel 2014 e abbiamo conquistato subito il titolo del mondo Juniors. Poi l'anno successivo siamo passati in categoria Signores e abbiamo conquistato il titolo del mondo. Nel pattinaggio non era mai successo che passando di categoria una coppia vincesse subito il titolo del mondo. L'anno scorso ci siamo riconfermati a Novara e quest'anno siamo qua per riconquistare il nostro titolo e dare sempre il massimo. Quando pattiniamo insieme, io e Rebecca siamo una persona sola, energia pura e ci sembra di volare. Le emozioni che noi sentiamo dentro cerchiamo sempre di trasmettere al pubblico fuori, cercare di emozionare soprattutto attraverso i movimenti. I nostri fan ci chiedono consigli tecnici e personali e a noi piace aiutarli rispondendo, ringraziandoli per tutto quello che fanno per noi. Everybody love WEEZ! いい Pugup mini DSA 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 Grazie a tutti.